è giunto il momento di parlare di un film che uscirà il prossimo 19 quindi in questo spazio tempo domani tra l'altro stranamente è quasi esclusiva per la disney i film pixar disney escono un giorno prima così hanno un giorno in più da spendere al box office della settimana mi sembra giusto ma mica tanto più o meno ma scusa lo possono fare anche altri volendo lo possono fare solo loro perché sono disney perché se lo possono fare anche altri allora perché non lo fanno vedi va bene il primo inside out che sicuramente molti e molte di voi avranno visto è uscito nel 2015 quindi sono passati quasi dieci anni e sono quindi pazzesca questa cosa sono passati quasi dieci anni e in effetti sono passati dieci anni anche per la protagonista più o meno perché riley l'avevamo vista una bambina piccola non ricordo bene dove no va bene no arrivava forse ai 5 6 anni beh andava alle elementari sì elementari era materna elementari poi la prendevano fin da piccola in realtà quindi inside out 1 era proprio la la genesi l'infanzia l'infanzia della protagonista riley e delle sue emozioni nello specifico gioia disgusto rabbia paura e tristezza questa erano la prima formazione delle emozioni di inside out in mano disgusto in mano disgusto sì che è una delle mie preferite in assoluto abbiamo atteso con grande suspense questi anni per la seconda parte questa seconda parte è arrivata una una storia incredibile ma soprattutto un impianto creativo che io ancora mi chiedo come sia possibile nel mondo riuscire a fare una cosa del genere perché quello che in effetti mi aveva colpito soprattutto del primo film di inside out e credo che fosse una delle cose che ha colpito più di tutti a parte il livello di medesimazione che che abbiamo tutti provato sentendoci coinvolti nel processo di crescita di questa bambina che abbandona un mondo abbandona anche una un amico immaginario la prima parte della fantasia della della dell'infanzia per crescere e tutti li a piangere disperati ricordando i propri amici immaginari e il proprio passato ma soprattutto la creazione di un mondo che è quello delle emozioni con le isole e tutto un immaginario complesso esteticamente molto articolato che ci aveva lasciato senza parole pieno di colori con queste palline che sono praticamente i ricordi noi ricordi pensieri i ricordi colorati nella maniera che rappresentasse la la dominante la dominante dell'emozione sì tutto questo la cosa veramente eccezionale di questo impianto di questa storia di questo di questa struttura e la semplicità possiamo dire una cosa questo inside out 2 è diretto da kelsey man al suo debutto alla regia una cosa facile ha scelto il debutto alla regia quindi non è lo stesso non è peter doctor peter che intanto diventò il capo massimo di ah quindi c'aveva altro da fare va bene erroni del carmen ok e appunto questo film ha richiesto tanto tempo tanto tempo di lavorazione lavorazione ci troviamo dal punto di vista della storia con una riley 12 anni 12 anni 12 anni e nello specifico si affronta una parte della sua vita che è la sua passione per l'okie l'avevamo già visto nel primo film l'avevamo visto nascere questa passione nel primo film da riley in questo momento storico è veramente possiamo usare anche dei casti power of lona roman slang fomentata per il l'okie oltretutto è anche anche una squadra di okie che è veramente sulla cresta dell'onda oltretutto le sue due migliori amiche giocano con lei esatto l'unica cosa che spariglia una situazione che sembrerebbe essere equilibrata in cui le sue emozioni hanno trovato un modus operandi che funziona gioia ha capito che deve accettare tutte le emozioni quindi anche la tristezza fa parte dell'equilibrio stanno creando quello che viene definito da gioia la coscienza di sé di riley quindi i suoi diciamo punti di riferimento anche morali le consapevolezze su se stessa che la fanno crescere sono una brava persona sono una buona figlia i miei sono i genitori sono orgogliosi di me quelle convinzioni che ci permettono di essere saldi e salde no cosa succede però in questa situazione che arriva la pubertà una palla impazzita ovvero la pubertà la crisi adolescenziale che si porta dietro delle nuove emozioni poi non vi diciamo altro però questo è diciamo visibile anche nei trailer queste nuove emozioni sono ennui cioè la noia imbarazzo invidia ansia e basta perché poi ce n'è un'altra ma la scoprirete lì ma non è legata al periodo adolescenziale molto divertente da da vedere queste nuove emozioni ovviamente arrivano con la gamba tesa e incasinano tutto la storia poi prosegue e insomma bisognerà un po capire come trovare un nuovo equilibrio bello sì molto ci è piaciuto molto più semplice del precedente più semplice ma più semplice perché semplicemente si basa su un impianto già costruito quindi non rimaniamo più sconvolti nello scoprire che esistono le isole dei diciamo punti di riferimento l'isola dell'amicizia l'isola della famiglia che è diventata più piccola perché essendo lei diventata più grande ovviamente le amiche hanno un posto maggiore nel suo cuore nella sua mente queste sono cose che ovviamente ci avevano lasciato a bocca aperta nel primo film e adesso le diamo un po per assodate però è una storia semplice ma di impatto molto universale tutti quanti possiamo sentirci coinvolti ci sono dei nuovi doppiatori e doppiatrici ovviamente in base ai nuovi personaggi nello specifico ansia è doppiata da una ottima Pilar Fogliati io credo maiuscola secondo me molto brava Diva Cassel che sarebbe la figlia di Vincent Cassel e Monica Bellucci fa ennui cioè la noia ma ha tipo forse dieci parole in tutto il film quindi non partiamo però non male però durante la proiezione stavamo ci davamo di gomito dicendo ma è mastoccolma sembrava un po è mastoccolma perché ha questa l'accento francese eppure un po la R così calca molto perché poi incontrandola dopo la proiezione non ce l'ha così non così evidente quindi la la sa usare Marta Filippi che è una doppiatrice oltre ad essere probabilmente la conoscete a una sorta di content creator influencer con il nome la salsa di Marta e invidia ed è quella quella lì che fa la signora di Roma Nord se avete presente il genere è stata anche a lol sì Federico Cesari è imbarazzo Federico Cesari è quello di scam ma anche di tutto chiede salvezza ma insomma qui fa poco e poi dopo ah no c'è Stash Stash che è un personaggio che compare pochino Stash non è la sua prima esperienza ok sì non vi dico chi è perché lo dovete scoprire è un personaggio però che compare pochino Stash è la sua seconda terza esperienza al doppiaggio perché aveva doppiato branch in troll il troll quello un po forastico il punto principale assodata la struttura rodata utilizzata e anche ampliata e l'uso semplice di questo impianto veramente cioè si parla di rimozione di flusso di coscienza di attacchi di panico ci sono delle cose veramente molto molto belle molto interessanti la cosa preziosissima di questo film è che c'è una rappresentazione su schermo di cose che succedono a tutti noi e a tutte noi dentro in una maniera estremamente appunto disney quindi godibile per chi ha un una cifra sulla negli anni fino a due o anche tre cifre volendo in una maniera estremamente semplice e diretta efficace ma soprattutto a livello proprio pedagogico far vedere che non è un problema avere determinate emozioni è assolutamente fisiologico avere una confusione di emozioni ma soprattutto anche visualizzarla come un una classe piuttosto non imbranata ma confusionaria che gestisce un pannello di controllo complicato è letteralmente quello che si fa in analisi sì quindi normalizzare la una girazione emotiva il banalmente vedere pensare che dentro di noi ci sono appunto questi movimenti e anche dargli una forma pucciosa carina colorata ma soprattutto grazie al colore mischiare utilizzare il senso di mix rende molto bene anche a chi sta a accompagnando il il pupo o la pupa al cinema rende molto bene l'immersione rende molto bene anche la riflessione ed è possibile che a un certo punto della storia ci sia anche un momento in cui il cervello si stacchi il cervello adulto ovviamente si stacchi e si inizi una piccola riflessione sul sul se che probabilmente non vi aspettavate di avere compresa nel biglietto quindi inside out 2 tra l'altro con un minutaggio mirabile 96 minuti è una storia più semplice perché appunto sono tre giorni di vita di riley dentro riley quindi si va poco sui genitori sul sul cane si si entrava anche nel cane nel primo film ci stavano altre cose è più diretto più stretto più come dire action da un punto di vista della del proprio della sceneggiatura è anche molto interessante questo il il disegno la creazione anche la caratterizzazione ma soprattutto la semplificazione di tematiche e di elementi molto 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 densi in un film di 96 minuti per per ragazzi per ragazze è assolutamente sono veramente mirabile questa cosa devo rispondere in diretta alla presidente maura cenciarelli che sì sono d'accordo allora maura dice giustamente i talent che doppiano blea allora sì nel senso che i talent spieghiamo per chi non i quelli che non sono doppiatori doppiare lecce nella vita che però vengono scelti perché sono dei nomi allora intanto va detta una cosa che sia pilar fogliati che federico cesari sono sono attori e già è un passo avanti un attore un attrice nel senso che normalmente voglio dire amadeus ha fatto il talent in un in un film della disney ha fatto una capretta ha fatto una capretta però c'aveva un po di battute sicuramente più di quante ne avesse federico cesari è vero che fare l'attore non è uguale a fare il doppiatore per carità non lo vorrei mai dire nell'universo mondo però sicuramente essere un attore è già un pochino meglio che essere qualsiasi altra cosa anche marta filippi è una doppiatrice lei è una doppiatrice però veramente è un attrice non so che il film abbia fatto però deve a castello che è da tanto che fa molto giovane ma sta allora sicuramente pilar fogliati secondo me funziona dal punto di vista tecnico ci avrà le sue carenze che una persona che fa questo da tutta la vita noterà ma secondo me funziona è stata brava e federico cesari veramente dice due parole in tutto il film quindi non saprei dare una sono più sospirini è quasi uno spoiler questa cosa comunque però ecco pilar fogliati è un buon una buona cosa secondo me in questa situazione tra l'altro appunto anche nelle dinamiche è un persaggio molto difficile esatto perché comunque devi avere questo tono e però lei ce l'ha anche un po di suo e questo va besta nella grande anche capacità per quanto è possibile di chi sceglie per quanto siano liberi di scegliere cioè poco credo però per quel poco almeno cercare qualcuno che un po può stare sul personaggio mi leggo leggermente alla puntata precedente perché indovina nella versione originale quindi in inglese chi doppia noia leggo perché lo sai e lo leggo lo leggi adele a oddio adele ex arcopulos ma però ci sta ci sta che è quella della vita di adele esatto ma anche nel di animal kingdom al cinema ovviamente contemporaneamente a inside out 2 cos'altro dire io io sono rimasto alla conferenza stampa o inter ho parlato con il pane il tavolo di me davanti a me il produttore la di il regista e tutti i doppiatori ma possiamo dire che ansia è doppiata da maya ok ovvero la figlia di uma turman e itan ok così sì certo sì 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 quindi pilar fogliati sta a maya come ansia sta il trovere della registrazione non completa gli estratti dalla conferenza stampa sul canale youtube di letture metropolitane a brevissimo io mi sono soffermato e ho chiesto mi viene in mente una cosa in realtà vedo dal cast originale che sono praticamente quasi tutti attori non solo doppiato cioè sono attori che fanno gli attori nella vita io credo che in america questa cosa sia diciamo sdoganato nel senso che vabbè perché la non c'è il doppiaggio giustamente quindi ovvio che sono gli attori che credi no no però si poteva scegliere un attore che faceva lo speaker forse chi usava solo la voce no potremmo potremmo raccontare perché per esempio vedo che invidia è fatta da io e debiri che è quell'attrice bravissima che fa la la collega di dello chef in in the bear ma anche emi poller è gioia emi poller è gioia emi poller che è un'attrice incredibile nonché anche un'autrice una regista una comica soprattutto pazzesca quindi avete presente chi è emi poller forse sì forse no vabbè andatela a cercare se non l'avete presente è quella che ha fatto aspettate pax and recreation per esempio ma anche girl power film di cui abbiamo parlato molto carina lei fa la mamma faceva la mamma e poi ha fatto un sacco di doppiaggio anche la regista se non sbaglio sì alvini simpson anche la insomma una molto molto brava ma ora risponde già che sono attori tanta roba e infatti non mi riferisco a questo film in particolare il mio è un discorso in generale ci sono delle molnezze improbabili appunto abbiamo citato un radiofonico che doppia una capretta veramente c'è di tutto e quello secondo me è una delle cose meglio fatte guarda io ricordo per esempio una cosa che ho molto apprezzato era magalli che faceva faceva palote sì filottete in in hercules così come anche luca bizzarri che faceva il lama in lo so le foglie dell'imperatore tutto questo probabilmente questo il resto boh di chi è dentro la sala di doppiaggio sì ovviamente ovviamente anche perché appunto anche perché all'epoca avevano molto più tempo per farle le cose quindi per curare provare diciamo a tirare fuori il meglio da queste persone adesso credo che ci sia forse un quarto neanche di meno ancora del tempo in fondo ai titoli di coda ho sbirciato dei dei nomi di psicologi e psicologhe ho chiesto esattamente questo al appunto al parterre che avevo davanti mi ha risposto sia il regista sia il produttore sia la direttrice del doppiaggio che per quanto riguarda la parte italiana era stata affidata a stefania andreoli scrittrice psicologa formatrice anche voce di radio dj perché compare partecipa a quella nel film nel film nel programma di cattelan sì 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 e per quanto riguarda il doppiaggio italiano c'è stato semplicemente una consulenza di tipo grammaticale o anzi di termini anche per avere e parlare esattamente delle cose giuste quindi il era interessante se volete approfondire se volete vedere in faccia le voci che sentirete dal cinema sappiate che la registrazione è probabilmente mentre lo state sentendo il radio in diretta non è ancora in online ma quando vedrete la recensione sul canale youtube di letture metropolitane troverete anche la conferenza stampa giustamente daniele ci ricorda fabrizio frizzi come voce di wood in toy story e dai ma lì appunto secondo me lì si trattava anche molto del tempo che non aveva per per cercare di fare le cose nel miglior modo possibile che adesso non c'è più nota di merito per il nuovo compositore della colonna sonora non è più michael giacchino ma è andrea dazman che sta molto sulle note di giacchino sia nella nel senso letterale sia anche per dare un seguito fisiologico ma rende molto bene anche la parte epica action avventurosa della pubertà perché appunto nel nella storia è molto molto attiva molto 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 movimentata e anche l'uso di strumenti elettrici che rimandano in qualche modo anche se non proprio nei nei gusti di rai li rimandano al mondo rock che potrebbe più risuonare nel nostro cervello insomma io lo consiglio caldissimamente questo film portatevi i fazzoletti oppure se non avete spiaggia un po meno del primo secondo me però però ha un suo perché ma io mi sono ritrovato con gli occhi pieni di lacrime in momenti inaspettati veramente inaspettati e poi appunto veramente preparatevi poi a ripensarci 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 anche a ore di distanza ve lo consigliamo moltissimo questi invece non c'entrano con la corona sonora ma sono i ciamba wamba grazie a tutti